Buonasera ai nostri spettatori, avete avuto la pazienza di aspettarci pochi minuti e compare magicamente il nostro matematico, il nostro professor Buongiorno, è stato richiestissimo, noi in questa trasmissione ormai abbiamo una presenza stabile di scienziati e ricercatori, quindi persone che si applicano in studi per poi darci degli strumenti o delle soluzioni o degli strumenti per arrivare alle soluzioni. Sicuramente la prima domanda da farle è che i conti non tornano, nel senso che nel paese c'è qualcosa che non va, proviamo a cercare di sommare tutti gli addendi in tutti i modi, ma in realtà non si riesce ad arrivare a una soluzione dopo l'uguale, nel senso che la politica non trova soluzione, lo Stato non trova soluzione, per i giovani non si trova soluzione, è difficile qui trovare un quadro della situazione. La matematica invece alla fine una soluzione la trova sempre? No, non è vero, è la matematica antica che cerca le soluzioni. La matematica attuale cerca di definire meglio il problema per stabilire se ci sono soluzioni, quante ce ne sono e come si devono orientare. Quindi è molto diverso l'approccio e per questa ragione io a un certo punto mi sono orientato di lasciare la matematica ed entrare in un campo un pochino più concettuale che è quello della letteratura, mi sono messo a scrivere dei romanzi. e le soluzioni non ci sono sempre, specialmente per i problemi economici, insomma, non ci sono, non perché il problema in sé non ce l'ha, ma perché viene applicata una matematica in modo errato spesso. Cioè la matematica che si adopera non è quella che serve alla risoluzione del sistema. E quindi si commettono errori, si fa credere che con i derivati si può guadagnare molto, che investendo in banca con l'interesse si può guadagnare quanto si vuole, magari frammentando i tempi della capitalizzazione. Non è vero perché quando si fanno le somme delle capitalizzazioni, sono numeri che crescono in ragione minore dell'unità e la serie, cioè la somma di tutti i numeri che sono minori dell'unità, non ha una somma infinita, insomma, come si potrebbe pensare. Quindi diciamo che l'economia, l'economia, ma io chiamiamo l'economia, li chiamiamo gli operatori economici, hanno in mano strumenti sbagliati? Li hanno in mano perché sono arroganti e quindi, diciamo così, si recuperano per lo stesso dei strumenti sbagliando strumenti o c'è qualcuno che gli passa questi strumenti sbagliati per farli sbagliare? Non lo chiede a me, insomma, perché sarebbe una responsabilità che un matematico non si può prendere. E lo scrittore se la può prendere questa responsabilità? Lo scrittore no, perché io mi sono occupato di altre cose, insomma, che sono conseguenti alle ricerche di tipo matematico e fisico che ho fatto. Se la devono prendere tutta i politici e gli economisti, insomma, perché la scelta dello strumento spetta chi l'adopera, insomma, quindi non si può scherzare su questa cosa. Una sua ultima opera letteraria? Cosa ha scritto? L'ultima cosa che ha scritto cos'è? Si chiama il sapiente e la foglia del gelso. E quindi si parla della matematica antica, della matematica moderna, si parla di un universo in cui il tempo e lo spazio siano delle entità relative, secondo le teorie più avanzate, e quali sono le conseguenze a livello psicologico e emotivo che da queste cose discendono, insomma. Noi abbiamo studiato il viaggio nel tempo, abbiamo visto che si può fare, ovviamente io non ho un orizzonte temporale abbastanza lungo da poter partecipare al viaggio nel tempo, se non al ritorno, non all'andata, e quindi ho pensato di mettere degli scenari in cui l'uomo fosse inserito nella possibilità di viaggiare nel tempo e quindi come mutano le esperienze del quotidiano. Presidente Rubianco, stiamo facendo cultura adesso? Come no? Infatti pensavo proprio questo, se c'è una cosa con cui la matematica ha molti punti in comune, è proprio la musica, sia per proprio l'aspetto tecnico del tempo, che assolutamente deve essere rispettato, sia proprio per questo che diceva lei, cioè per questo senso dello spazio e del tempo che nella musica hanno una dimensione tutta loro, per cui ritengo che proprio attraverso la musica, anche se può sembrare un mondo astratto, invece io vedo che usandola proprio giornalmente, toccandola con mano e avendo anche io un'esperienza ormai decennale, sia di insegnamento che proprio di manipolazione dei suoni, diciamo così, devo dire che quello che si apprende, proprio incanalando la musica nell'aspetto matematico, che non va assolutamente, cioè c'è un aspetto creativo che indubbiamente è essenziale, ma l'aspetto della precisione, della disciplina, del rigore in cui vanno fatte certe cose, secondo me è un aspetto estremamente positivo e che ha sempre il suo valore. Sui giovani io vedo che ha grandissima presa. Non eravamo d'accordo, insomma, le posso dire che nel mese di maggio si laurerà un mio studente in ingegneria elettronica discutendo una tesi sull'applicazione di strumenti matematici all'elaborazione musicale nella composizione. Fantastico, ecco, è nato un flirt culturale. Come gli strumenti matematici stanno entrando molto anche nel settore delle banche per la misurazione del rischio, per tutto l'asset dell'ability management. E lì in quel caso fanno danni. No, in teoria non fanno danni, non farebbero danni se, come giustamente dice il professore, sono applicati bene, perché i modelli, ecco, questi modelli spesso risentono anche di normative. Allora, facciamo l'esempio delle aziende non profit. È dimostrato, dati alla mano, che le aziende non profit non sono più rischiose delle altre in termini di rischio di non ritorno dell'investimento. Però Basilea 2 dice che vanno penalizzate e quindi quando si calcolano i coefficienti per la banca e quindi il rischio, vengono considerate più rischiosi degli altri tipi di investimenti. Questo penalizza molto tutto il settore del volontariato, che invece è un settore che potrebbe dare molto lavoro ai giovani, alle persone che hanno superato un certo tipo di vita, che potrebbero mettere in atto alcune iniziative a costi contenuti, che però creano lavoro per loro e danno un supporto al sociale. Il grande processo del volontariato, Presidente De Angelis, può nasce, il campione deve essere però una comunità cittadina. Perché qual è il grande processo del sociale? È il processo, diciamo così, estremo della sussidiarietà. Esatto, non deve essere... È il processo estremo della sussidiarietà, nel senso che si può pensare che i cittadini pagano per un servizio. Il meccanismo, prima si decideva che doveva esserci un soggetto terzo, pubblico, lo Stato, a gestire questo servizio, perché se no non si riusciva a conservare un obiettivo di benessere collettivo, culturale, c'è un interesse generale. Ora c'è il mondo del volontariato, che nel suo fare ha un interesse generale, c'è un interesse specifico per quella domanda dei bisogni che c'è sul territorio. Questa cosa va sperimentata. Dobbiamo creare dei meccanismi dove lo Stato si ritira al ruolo di controllore e fa subentrare la libera scelta del cittadino che vuole soffrire del servizio perché ha un bisogno e quindi contribuisce. E il settore del volontariato operoso nel soluzione dei problemi, nella gestione di alcuni servizi o di fa bisogno. Anche perché non ci scordiamo che siamo in un'epoca in cui l'età media si sta sempre più allungando. Quindi c'è questa fascia d'età dai 70, ai 100, ai 120 anni tra un po', perché qui si allunga sempre di più, che o si occupa di volontariato o è utente del volontariato. E quindi saper gestire bene questo tipo di attività e rendere partecipi di questo contesto sia gli utenti che eroga volontariato è anche un bene comune che si crea per la società. Per esempio, prima una cosa, lei mi parlava di che cosa si lamentano le aziende, soprattutto le piccole, la burocrazia. Ecco, questa è una cosa che non costerebbe niente allo Stato e consentirebbe a tante aziende di nascere più facilmente senza aspettare un anno e due per poter avere permessi, contropermessi. Si può dare la possibilità, uno dichiara che vuole costituire questa azienda, gli dai un anno di tempo per mettersi in regola e poi mandi i controlli. Ma che problema c'è? Quindi, abbiamo detto, la burocrazia è esposta. Fammi partire. Fammi partire. Poi viene a controllare. Anche perché così do lavoro alla gente, se no non possiamo andare avanti con questo. Il principio corretto. Invece no, volevo rimanere sull'argomento invece del volontariato, avvocato. Perché io volevo sopra il volontariato. Ma diritto comunitario, ora che ci penso, da poco spazio al mondo del volontariato. Quando si stabilisce a livello europeo, sappiamo che dobbiamo aspettare un po' di tempo per il nuovo programma economico europeo perché è stato bocciato, cioè quello fatto dalla Commissione è stato bocciato dal Parlamento europeo. Quindi non si capisce come verranno gestite le risorse europee il prossimo piano che deve comprendere il periodo del 2014-2020. Però io non ho visto lo spazio per il mondo del volontariato. In questo settore possibilità di finanziamenti, possibilità di supporti non li vedo. Perché secondo me? Ma è proprio escluso al diritto comunitario? No, no, non è vero. Il diritto comunitario, la comunità europea si è occupata anche di questa materia, ci sono stati degli studi, ci sono stati anche dei provvedimenti. Certo, non ha la comunità centrato come suo principio base questo qui. Quello che dicevo prima, al centro della comunità europea c'è il mercato e per la comunità europea è intoccabile. Purtroppo, quello che stavamo dicendo prima è profondamente sbagliato. Non solo il mercato non è intoccabile, ma dovrebbe essere soprattutto sotto il profilo della finanza speculativa. quantitativamente molto controllato, regolamentato e assoggettato a tassa. Perché una semplice Tobin Tax non toccherebbe che una percentuale minima delle attività finanziarie del pianeta e quindi europee. e invece una Tobin Tax di elevato livello costituirebbe invece un aiuto per l'economia reale. Perché bisogna dire un concetto che è quello che diceva la dottoressa Reangelis prima. Non a caso facciamo parte della stessa associazione di diritto del lavoro e dell'impresa e cioè l'asilo. Così facciamo anche un pochino di pubblicità. Non a caso come diceva la dottoressa Reangelis l'economia finanziaria non si limita a gestire se stessa e a gestire l'intero pianeta ma con il tempo soffoca e se mi pensate permettete di dirlo distrugge con il tempo l'economia reale e la distruggerà se gli uomini non si ergeranno a difesa della stessa. Professor Buongiorno Sì? Scusa stavo dicendo la distrugge anche a livello psicologico all'interno delle imprese perché un dipendente che vede che con l'avvento di questa attività speculativa c'è un dislivello tra la sua retribuzione e quella dei dirigenti che si occupano di finanza altri dirigenti spesso è stato rilevato da un'indagine presso le banche americane di 1 a 25 mila di differenza tra lo stipendio di un impiegato e quello di un dirigente. Io chiaramente lo percepisco come una cosa ingiusta perché mi rifiuto di credere che ci sia una persona che abbia 25 mila responsabilità in più di un'altra persona o che valga tanto di più di un'altra persona. Quindi è percepito come profondamente ingiusto come definire gli obiettivi soltanto a un anno e premiare i manager solo per gli obiettivi raggiunti ad un anno porta a dei disastri terribili perché io se voglio far vedere che ho avuto alti profitti non curo la manutenzione sottopago le persone cioè non mi curo affatto del benessere organizzativo proprio per evidenziare il disagio lavorativo che si crea nelle imprese ma non tanto per un fatto della persona ma perché l'organizzazione non rispetta i principi di una buona organizzazione. questo è chiaro professor buongiorno i numeri e la matematica possono risolvere questo conflitto tra l'economia reale e l'economia finanziaria? è una cosa di cui mi sto interessando molto in questi ultimi tempi attraverso una cosa che può sembrare molto diversa ma non lo è faccio modelli matematici per la medicina e quando si parla di volontariato di burocrazia di queste cose non si fa che aggiungere variabili al sistema economico perché c'è una cosa che segue leggi diverse la burocrazia che segue leggi diverse quindi aumenta la complessità del problema i problemi più sono complessi e più è difficile non solo trovare le soluzioni ma dire se le soluzioni ci sono quante sono queste soluzioni di solito sono molte e se sono molte possono diventare tutte cioè qualunque cosa può essere soluzione di un problema complesso e allora muoversi in questa complessità è molto rischioso e richiede un intervento più attento poi l'intervento più attento consiste in questo insomma non bisogna staccarsi dagli elementi reali del problema e farlo diventare prevalentemente un problema virtuale perché i derivati sono un oggetto virtuale e quindi non si può guadagnare del denaro reale operando cioè giocando con oggetti virtuali e allora questa matematica della complessità è molto importante e allora io penserei questa è una mia visione che posso dirvi a titolo personale in tutta amicizia che la matematica di Galileo la matematica anche più moderna degli statistici e la matematica delle più complessa delle matrici e dei frattali eccetera ha bisogno di essere sostituita da una matematica della natura cioè la matematica non deve essere la guida per interpretare i comportamenti della natura e quindi dell'economia che fa parte della natura ma al contrario deve cercare di incamerare quelli che sono i procedimenti che si realizzano e che si vedono si verificano nella natura nella medicina nella biologia nell'economia e fare una matematica che soddisfi alle esigenze di queste cose e per tornare prevalentemente il diritto naturale però abbiamo scritto un articolo che è uscito in un libro insomma insieme ad alcuni colleghi medici che si chiama analisi biologia chimica per la complessità a b c per la complessità quindi per studiare i problemi complessi bisogna tornare all'abc della matematica una matematica nuova ricocino moren worlestim e andando avanti esatto c'è tutta una letteratura particolare hanno fatto parte di alcuni esami universitari che ho fatto quindi su questo mi ha affascinato all'università quando nello studio del storio del pensiero economico ecco la professoressa si è dedicata a questa si è dedicata anche nel farci scomporre scomporre creare disordine nel sistema che c'è cercare di ricomporre un ordine su questo su questo disordine inserendo il meccanismo dell'analisi della complessità analisi della complessità pensiero debole e quindi a mettere a tenere delle buone menti è sicuramente un ottimo metodo ecco se vedo questo punto di vista qua è sicuramente un ottimo metodo e quello per farmi un po' di pubblicità il 23 aprile terrò al Circolo dei Piceni che è a San Salvatore in Lauro proprio una riunione insomma una conferenza alle 18 purtroppo è un'ora infame schermo che dice appunto questo la matematica la matematica 23 che giorno è? 23 non è facile 23 è martedì quindi martedì 23 aprile ore 18 di San Salvatore di San Salvatore in Lauro San Salvatore in Lauro si parlerà di? si parlerà di la matematica della natura la matematica interessante ha tirato la nostra attenzione cosa ci cosa ci state proponendo invece da qui diciamo così verso i climi più caldi esatto in questo ultimo scorcio di anno due grossi impegni che mi ero prefissa sin dall'inizio il 20 aprile nell'abbazia di San Nile a Grotta Ferrata dalle 9 di mattina a luna ci sarà un forum sulla musicoterapia noi tutti gli anni ci occupiamo di un problema scientifico riguardante l'ambiente un problema abbiamo fatto anche forum sullo spazio sull'energia cioè i vari argomenti l'anno scorso sui problemi dell'inquinamento aria e acqua quest'anno chiaramente con la mia spinta musicale avevo deciso di fare questo forum sulla musicoterapia che ritengo sia molto importante da tutti i punti di vista ho contattato proprio la federazione nazionale di musicoterapia che sarà presente con il suo presidente Stefano Martini e verranno anche altre persone soprattutto persone che hanno fatto delle esperienze sul campo quindi verrà una dottoressa di Cremona che si chiama Laura Gamba che presenterà proprio le sue esperienze fatte di musicoterapia all'interno dell'ospedale di Cremona e poi verrà un professore invece del CTO di Roma Pier Francesco Dauri che applica la musicoterapia nel paziente neuroleso quindi vista dal punto di vista medico siccome c'è un enorme diatriva sul riconoscimento della musicoterapia come disciplina scientifica quindi spero che questo forum serva a questo quindi ripetiamo la data 20 aprile a Bazzia di San Nilo a Grotta Ferrata dalle 9 alle 13 quindi prima il 20 aprile dal circo e poi il 23 dal professor e poi la cosa ancora più diciamo più grande perché si espande in tutto il territorio nazionale è il concorso di musica da camera per giovani musicisti l'ho intitolato Rotary Symphony la musica per la pace perché questo per i Rotary l'anno della pace e quindi l'ho dedicato a varie categorie di musicisti dai 13 ai 22 anni però musica da camera non solista perché ritengo che anche per esperienza mia diretta che suonare insieme sia un enorme scuola di vita da tutti i punti di vista sia tecnico proprio perché si affina alla propria tecnica ci si confronta con quella dell'altro sia per il rispetto enorme reciproco che si sta ora in un duo in un trio e le informazioni di questo concorso le informazioni sul concorso il concorso si terrà dal 6 all'11 maggio a Castel Gandolfo e quindi devo ringraziare ecco in questo caso il sindaco di Castel Gandolfo la dottoressa Monachesi che mi ha aperto le porte anche del suo teatro dove si svolgeranno peccato non poter invitare il padre Merito esatto l'abbiamo pensato ma dice che non scenderà e quindi dal 6 all'11 maggio perché non vi mettete d'accordo e glielo fate là sotto sicuramente è lì sotto perché il teatro è proprio lì sotto la piazza dobbiamo solamente dire al Santo Padre Merito di aprire la finestra e a questo punto lo addolciamo questo è una bella notizia troveremo modo abbiamo dei contatti e dei canali per informarlo e tutte le informazioni sono sul nostro sito Rotary anche per le iscrizioni www.rotarycastelliromani.it www.rotarycastelliromani.it il concorso dal 6 all'11 maggio e quindi si suona dal 6 all'11 maggio si suona musica da camera violino viola violoncello flauto oboe e chitarra con o senza pianoforte si vede la passione della pianista la presidente del loro pianista si sente quando si tratta a temi di musica Laislow che ci sta organizzando invece? Allora noi stiamo iniziando a lavorare su un progetto per i giovani perché io penso che dobbiamo incidere sulla scuola se vogliamo dei giovani in grado di essere imprenditori di se stessi perché la nostra scuola non insegna i valori e le competenze che sono tipiche del mondo dell'impresa faccio un esempio molto banale il concetto di merito non glielo possiamo non lo possiamo dire soltanto ai nostri imprenditori perché non valorizzano il merito quando nella scuola sono vissuti in un mondo in cui il merito è stato ultimamente accantonato esatto la creatività non può essere sviluppata e i talenti non possono essere sviluppati in un contesto scolastico in cui tutti devono essere irregimentati quindi dobbiamo voleremmo ecco lavorare su questo progetto perché a me piace molto lavorare per i giovani e sui giovani perché è il nostro patrimonio futuro e mi piange il cuore sapere di tanti giovani in gamba e io ho lavorato pure in università sono stata responsabile di un master verso l'università europea di Roma e abbiamo dei giovani veramente in gamba e forse anche più in gamba di quando noi avevamo la loro età e vedere tanto patrimonio umano sprecato mi piange veramente il cuore poi per essere più ludici a breve termine quindi abbiamo il 20 che è impegnato il 22 noi facciamo l'incontro abbiamo riempito tutto chiaramente ma noi votiamo da da possibilità ecco ecco il 22 aprile l'associazione italiana di studio del lavoro per lo sviluppo organizzativo ha organizzato presso Palazzo Grassi che si trova in via Merulana 60 un convegno incontro perché sono due ore di incontro sempre dalle 18 perché noi ci rivolgiamo al mondo imprenditoriale e chi lavora tutto sommato è tanto che riesce per aggiornarsi a ritagliarsi due ore di tempo imprenditori professionisti diciamo perché negozianti commercianti alle 18 esatto allora l'incontro del 22 è sul tema leadership e problem solving in tempo di crisi poi ne abbiamo organizzato un altro per il 9 di maggio sulle start up quindi genesis sviluppo agevolazioni per tutto ciò che riguarda è il mondo dello start up finanziamenti ecco abbiamo vari relatori che affronteranno varie tematiche e questo sarà sempre a Palazzo Grassi il 9 di maggio e sempre forse anticipiamo perché ci sono vari argomenti e quindi non so se riusciamo a trattenerli dalle 18 alle 20 come facciamo di solito ecco questi diciamo sono gli incontri a breve termine tanto per tenerci impegnati il mese di aprile e il mese di maggio e poi abbiamo programmato tutta una serie di incontri in materia di finanza questo come dicevamo prima quindi sarà protagonista il nostro avvocato Cerchiara insieme a altri personaggi in particolare che cosa tratterete e tratteremo alcune questioni che abbiamo già in parte trattato cioè quali sono le soluzioni perché noi abbiamo detto prima non va soltanto tassata la materia finanziaria va regolamentata un nuovo sistema in cui c'è una banca pubblica in cui ci sono delle banche che sono di affari banche di affari e banche di risparmio in maniera tale che praticamente non possono utilizzare i soldi del correntista per fare le operazioni finanziarie quindi diciamo la relazione tra banca di regolazione questa potrebbe essere la soluzione perché in realtà quindi le banche che oggi falliscono falliscono per un discorso diciamo di investimenti e speculazione di comiscura poi soprattutto la banca della parte di responsabili però mi viene una domanda adesso da farle quindi diciamo che i soldi torniamo al vecchio metodo se io deposito i soldi quei soldi possono essere utilizzati per prestarli cioè nel senso che poi le banche d'affari sono le banche d'affari questo la famosa la banca la banca speculativa è la banca speculativa cioè io già so che se voglio consegno i miei soldi alla banca speculativa è quella ci gioca con questi soldi invece di andare al casino fa stavolta però quella non può mai incidere sulla banca degli risparmiatori quindi va completamente scisso da questo punto di vista il diritto anche perché così la possiamo far fallire della banca speculativa perché chi perde i soldi è colpevole non deve rispondere i cittadini con le tasse soprattutto quindi da questo punto di vista qua è un mercato impossibile il sistema della comunità europea va leggermente modificato come obiettivi non deve essere al centro il mercato deve essere al centro il cittadino europeo beh questa sicuramente è una è una soluzione interessante anzi il cittadino comunitario certo da questo punto di vista qua professore cosa cosa sta mancando nel senso che abbiamo abbiamo inquadrato bene la differenza tra il settore dell'economia reale e il settore dell'economia ecco di carattere finanziario perché una volta veramente i nostri imprenditori cioè chi sapeva realizzare il profitto si sedeva a tavolino foglietto di carta e cominciava a tracciare altro non c'erano questi computeroni eppure si riusciva a fare impresa si riuscivano a fare profitti contratti si riusciva a dare lavoro a costruirsi un mercato il computer questa questa macchina che ci in sé ci toglie è vero tutta una serie di problematiche forse non ci non ci nasconde i problemi che si insediano in quelli che sono i ragionamenti matematici cioè nei numeri questa la scelerità con il quale i processi dei computer svolgono calcoli no? equazioni questo non ci toglie poi non ci nasconde alcuni effetti no non li nasconde a noi insomma chi sa usare il computer viene avvantaggiato dalla possibilità di risolvere molti calcoli in poco tempo è che per il cittadino medio questi che sono i procedimenti del computer e quindi i misteri che stanno dentro il computer rimangono sconosciuti e quindi tutti i miracoli tra virgolette che si possono annidare all'interno di queste esperienze e non vengono percepiti dal cittadino insomma e quindi questo crea una frattura ma l'imprenditore cioè il calcolo ma l'imprenditore dovrebbe prendo Tansi Parmalat un Tansi Parmalat è un'azienda magnifica no? da questo punto di vista qua azienda fantastica perché produceva dei prodotti di carattere alimentare caseficio alimentare soprattutto molto girava intorno al latte quindi a materia prima latte a un certo punto nel suo fare azienda ha pensato che gli utili si potessero fare con questi bond argentini no tanto per dirne una come fa un imprenditore che produce dei prodotti interessanti in fabbrica con la lavorazione del latte e altro a un certo punto a pensare che la sua impresa aumenta gli utili perché compra bond argentini non è un problema strettamente economico insomma cioè matematico elaborativo quello che si è perso di vista io credo è l'esistenza del capitale di rischio ora se uno che fa un un artificio all'interno della propria impresa non è responsabile proprietario del capitale di rischio allora gli può venire in mente di investire sui bond argentini se il signor Tanzi ci avesse rimesso in prima persona con quell'investimento probabilmente avrebbe fatto meno danni insomma quindi dice che non era suo il investimento cioè i soldi non erano adesso si chiedono contributi insomma si chiedono contributi a tutti alla banca sì alle banche queste banche che amano fare operazioni rischiose insomma quindi diciamo così le banche hanno chiamato chiamano gli imprenditori e gli dicono ti do questo metti lì e dico perché non fa direttamente alla banca perché c'è bisogno cioè i soldi sono della banca perché c'è la banca perché chiama l'imprenditore di economia reale eh dottoressa De Angelis perché chiama l'imprenditore di economia reale per suggerirgli un investimento sul quale poi i soldi comunque gli da la banca allora se la banca ritiene che il prefitto ci sia così almeno passa il rischio io voglio comunque perché ho fatto l'operazione se va bene va bene tutte e due se va male va male solo solo all'impresa ma le banche fanno anche di peggio allora possono dire ti do questo prestito però tu lo investi in una parte in gestione patrimoniale poi se la gestione patrimoniale va male tu perdi mi devi ridare sia quanto hai perso dalla gestione patrimoniale sia il prestito che ti ho dato quindi questa fanno anche di peggio è drammatico com'è il presidente visto che mi diceva che lei il problema è nei controlli il presidente Bianco lei dice che nella sua attività del Rotary ha comunque un contatto continuo con le amministrazioni locali dei Castelli la condizione dei Castelli è simile al restante d'Italia assolutamente sì e credo che dovrebbero sicuramente migliorare proprio l'aspetto verso l'esterno manca una comunicazione un'apertura molto verso l'esterno ci sono dei patrimoni artistici culturali e anche io vedo anche nel mio ambiente cioè c'è una quantità enorme di musicisti di scrittori di pittori ma nel momento in cui ci si unisce si cerca di fare qualcosa si trovano le porte chiuse e io sono riuscita a fare aprire qualche porticina in virtù dell'essere presidente del Rotary in questo momento e in virtù della musica cioè è un elemento talmente universale talmente diciamo aperto verso tutti che riesce ad aprire qualcosa ma in effetti io vedo questo aspetto cioè dovrebbe sicuramente valorizzare di più tutto il suo territorio i Castelli ci sono degli amministratori negli ultimi tempi che vedo che si stanno muovendo in questa direzione però penso che ci sia ancora moltissimo da fare sul risanamento dei laghi argomenti di cui anche il Rotary stesso si sta occupando sull'abbassamento del livello del lago di Albano e di Nemi ci sono tanti abbiamo negli anni passati alcuni miei predecessori si sono occupati delle navi di Nemi dei musei cioè vedo che tantissime cose si fanno però ecco per iniziativa molto privata poi si riesce a parlare a dialogare nel momento in cui si dà magari un risultato concreto allora le porte si aprono di più questo sicuramente quindi Presidente De Angeli c'è il modo in cui l'impresa può stimolare la creazione sia il problem solving sia la risoluzione di problemi di interesse generale ma anche la creazione di profitto e lavoro e la pubblica amministrazione ecco la pubblica amministrazione se abbandonasse tante attività che non fanno parte del suo care business e le desse ai privati e con adeguati controlli perché andare ai privati senza poi controllare la qualità del servizio resa ai cittadini secondo me è veramente deleterio e una cosa che a mio avviso manca e manca nella finanza nonostante i regolamenti lo prevedono il problema ma che i grossi poteri sono difficilmente controllati anche dagli organi che dovrebbero fare controllo e manca anche nella verifica della qualità del servizio pubblico perché vediamo tutti come molte persone non faccio nomi perché sennò poi da poi rischiamo che organizziamo qualche categoria che dovrebbero svolgere il loro lavoro in maniera adeguata per garantire un livello di pulizia dell'ambiente miglioramento dei servizi urbani dei servizi sanitari eccetera spesso non vengono controllati e quindi non ci sono adeguati sistemi di verifica se effettivamente anche quello che ho dato all'esterno risponde al concetto di bene comune questa qui è chiaro il concetto di bene comune in Europa percepito l'abbiamo detto l'abbiamo detto perché quando è che l'Europa ha messo al centro del suo il mercato purtroppo è tutto no cioè non c'è un trattato perché così terminiamo ma non c'era il primo il trattato cioè non c'è stato il trattato di costituzione parlava infatti questa mia stanza io ho dedotto tra le tante altre violazioni che siccome la corte di giustizia ha detto che occorre difendere il cittadino della comunità europea dello stato membro non soltanto dal punto di vista economico come consumatore ma anche come uomo che vive nel proprio ambiente esercita le proprie attività allora è la gestione che hanno fatto alcuni organi della materia finanziaria che viola il trattato non quello che diciamo noi perché a livello costituzionale la come la nostra costituzione comunque io volevo esprimere un concetto che mi ricollega a quello che ho detto prima perché la finanza soffoca l'economia fino a distruggerla e poi quasi definitivamente annientarla perché non si limita a prendere il posto e non soltanto come giustamente ha detto la dottoressa De Angelis psicologicamente a sostituirla ma perché serve come strumento io per esempio ho un debito ho un contratto un debito di 100 euro questo però non deve apparire che cosa faccio? compro faccio un contratto con i derivati perché anche se perderò e succederà che perderò a 400 altri euro non soltanto quei 100 che avevo quei 100 che avevo saranno anacquati quindi non soltanto serve a inquinare serve anche ad anacquare e quindi in un sistema in cui non si capisce bene ciò perché poi questi contratti sono di importo elevatissimo l'importo totale di tutte queste operazioni sono 300 miliardi di triliardi di dollari l'anno eccetera eccetera a cui cospetto il dobbio finanziario è un è un qualcosa di talmente minimo che manco si percepisce detto questo queste operazioni sono così elevate e toccano questi aspetti e praticamente noi non abbiamo alcuna regolamentazione alcuna regolamentazione e il male della comunità qual è? che mentre da una parte colpisce il cittadino dello Stato membro dall'altra non adotta alcun provvedimento sulla crescita e nello stesso tempo non adotta alcuna regolamentazione finanziaria la regolamentazione l'adotta pure perché ci sono dei dispositivi nel MIF e le varie leggi europee sulla finanza il problema è che nessuno verifica nell'ambito degli istituti finanziari se effettivamente quelle regole sono rispettate perché c'è l'organo di controllo perché la legge prevede che c'è un organo di controllo che dovrebbe verificare se all'interno un organo di controllo interno che ha responsabilità civili penali tutto quanto che dovrebbe verificare se la banca lavora in rispetto della normativa sia europea che nazionale il grosso problema è che questo povero Cristo che ha questo incarico dipende dall'azienda quindi questo è il paradosso e gli organi che vengono a controllare se spesso non glielo dici tu quelle cose che non vanno e quindi tu non puoi denunciare il tuo lavoro le cose che non vanno non usciranno mai fuori solo quando escono fuori l'interno è allucinante che non abbiano previsto un organo esterno che faccia o perlomeno che non dipende una cosa che in Italia va fatta e questo lo dico perché se no dobbiamo togliere subito sta bugia banca d'Italia non serve più a niente cioè nel senso va chiusa va aperta con l'autorità di vigilanza deve tornare pubblica come era prima banca d'Italia in questo momento come è fatta banca d'Italia è loro in banca d'Italia c'è il capitale dei bancai c'è in realtà lì l'ha fatta un'autorità come diceva benissimo un'autorità sulla vigilanza bancaria dove all'interno delle banche questo qui dell'autorità va lì e lavora ed è indipendente quindi sta lì controlla osserva vedete il paradosso io dovevo rispondere a loro agenzia l'agenzia delle entrate Equitalia sono cinici con i cittadini con le imprese i colpiscono penetro entrano dentro gli affari di casa dici perché tu con i tuoi soldi non hai fatto questo perché stiamo andando stiamo fermando verso il redditometro ma non ci ha distrutto Equitalia l'idea che aveva lo Stato è che tu con 2.000 devi fare questo con 1.000 devi fare questo perché questo è l'obiettivo perché prima ci hanno tolti tutti poi a un certo punto dico ma se li togliamo tutti questi muoiono allora dobbiamo dobbiamo spendere noi per loro questa era un po' la soluzione di questo Stato burocratico li spendiamo noi non li spendiamo noi per loro e questa è una volle invece con le banche non si chiama no con le banche fanno delle transazioni figlio buono figlio cattivo com'è? no appunto il discorso è che introducendo queste nuove variabili bisogna dare dei limiti cioè dei regolamenti e quindi non è che se con tutti questi soldi tu devi spendere tanto e tu devi spendere tanto si ottimizza quello che è il bene del cittadino ma si ottimizza a seconda come si orientano o il bene della banca o il bene dei grossi poteri e quindi diciamo chi deve poi gestire con sensibilità la complessità del problema è un organismo che se ne faccia carico e che sia responsabile perché la responsabilità di quello che fa il controllore deve essere del controllore a me non si è da fastidio la presa in giro ecco perché io più parlo con persone esperte come voi e più sono infastidito ma perché ci prendono in giro problema la banca la banca d'Italia intervenga i politici che vanno le trasmissioni divisive e poi c'è ora la banca d'Italia interverrà cioè mica dicono che in realtà la banca d'Italia è delle banche quindi che intervenga la banca d'Italia a che ci serve? cioè qui deve intervenire in autorità terza cioè che deve mettere in discussione quello che fa la banca d'Italia cioè ci prendono in giro io ho una mezza idea che dicono se l'opinione pubblica non se ne accorta ma perché dì e se mi è consentito dirlo lei ha talmente ragione che in materia giudiziaria questo fatto qui di aver fatto credere ai cittadini che le cause sono troppe che sono ingiuste che gli italiani sono delle persone che non fanno sono dei litigoni che non fanno altro che appesantire le spese dello Stato e le sanzioni che la Corte di Giustizia ci manda per i ritardi hanno talmente dato questa e hanno talmente dato una normativa che penalizza a chi vuole fare la causa che la civiltà si perderà perché invece la civiltà da che cosa si contraddistingue? dal fatto che una persona se ha un'ingiustizia vada avanti a un giudice sei tu un legislatore che devi costruire il processo semplice in materia natale che dura poco non che è colpa del cittadino perché dura troppo e fa causa lui non la deve fare più ci torneremo in una decisione purtroppo il tempo è tiranno il tempo è finito quindi non posso non posso che fare questa violenza di togliere a questi splendidi ospiti il tempo saluto il professore buongiorno saluto la presidente De Angelis e saluto l'avvocato Cerchiara saluto tutti quanti voi e ci vediamo come sempre venerdì prossimo grazie 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 grazie